Ed eccoci così arrivare ai fatti di casa nostra, come dicevo poco fa, si leggeva a microfoni spenti dell'articolo di Ivan Zazzaroni sulle pagine di Libero Sport, l'intervista dei Rodiani a Massimo Rodiani, il proprietario della famosa e famigerata sala scommesse di Pescara, dove conferma nuovamente che c'era del marcio, che ora paghino i miliardari, appunto come viene titolata l'intervista, e che soprattutto in una partita di Coppa Italia a Lazio al Binoleff, al primo tempo il risultato doveva essere 0-2 e 2-0 e 2-0. Un commento? C'è poco da fare, aspettiamo che la magistratura ordinaria e sportiva faccia il suo corso e poi chi ha sbagliato deve pagare. Ho letto anch'io tanto su questo argomentaccio, aspettiamo che vengano istruiti i processi e si arrivi alle conclusioni. Io sono contrario a quello che aveva detto il procuratore Di Martino, pur facendo palesare, emergere degli scenari che questa intervista confermerebbe, cioè l'amnistia. Calma, niente amnistia, ma chi ha sbagliato deve pagare. Non scopro l'acqua calda, assolutamente. Credo che si debba fare così in un paese normalmente civile. Tornando al campo, Beccantini, domenica sera allo Juventus Stadium, Juventus Roma. Si affrontano le due ex regine degli anni Ottanta. Juventus che cerca comunque di tornare ai vecchi fasti, ancora mai battuta in campionato allo Juventus Stadium. Io volevo chiederle, che partita vede? È d'accordo con quello che ha detto proprio ieri, qui su Radio Yes, Nicola Legrottaglia che ha detto Se io ricordo i miei ex compagni, i miei amici, la Roma è totalmente spacciata perché hanno il colpo ferale, sanno essere come un animale feroce davanti alla preda, non potranno sbagliare. Adesso, totalmente spacciati, nessuno, neanche il Censi di stasera, abbiamo poi visto, ex post. Diciamo che sulla carta dovrebbe essere una bella partita perché la Juventus di Conte gioca bene e la Roma di Luis Enrique non cura molto o ha il suo tallone da China nella fase difensiva. La Juventus è fatta vedere le proporzioni, sperando di non venire coerenato, in certi momenti per come aggredisce la partita, lo spazio dell'avversario ricorda proprio un piccolo Barcellona, naturalmente il genio è il bisturi di Leo Messi. Molte partite della Juve di quest'anno sono contro piccoli o grandi, sono state come questa del Barcellona stasera, grande spreco per ottenere pochissimo, non a caso sono poi uscite tutti i diversi pareti. Tornando alla partita di domenica sera c'è di bello che devono vincere tutte e due, la Juventus per mantenere il vantaggio sul Milan, la Roma per recuperare terreno in vista del terzo posto che vale i preliminari di Champions. Quindi ecco, se finisse 0-0 mi meraviglierei molto. Sulle pagine dei giornali non si parla di altro, di Totti e di Del Piero, tornati nuovamente alla ribalta con il gol e con le ottime prestazioni. Giocherà Del Piero e soprattutto Beccantini? Secondo lei rimarrà un altro anno a Torino? Non so se io non penso che giocherà dall'inizio Del Piero. Il stato Del Piero ha fatto la storia del Juventus, vent'anni dal 1993, quando arrivò con buoni perti al comando tra pattoni e allenatore. Francesco Totti è stato la bandiera della Roma. Io credo che Del Piero, compiendo 38 anni a novembre, anche alla luce di quello che ha detto Andrea Agnelli e come gli ha risposto Alessandro stesso in questa intervista ultima, lui chiuderà con la Juventus almeno sul campo il 30 giugno. Poi il futuro non si può anticipare oggi se tornerà, se non tornerà. L'importante è che lasci in bellezza, come il gol che ha segnato all'Alastio lascierebbe trasparire e nessuno sbaglia l'ultima mossa. Prima di salutarci non avevamo avuto modo di trattare con lei il triste argomento legato al dramma di Pier Mario Morosini. Lo facciamo questa sera dopo l'ennesimo bagno di folla che c'è stato comunque per la Camera Ardente a Bergamo dopo il saluto dell'Armando Picchi di ieri a Livorno. Un brutto fatto per quanto riguarda il calcio italiano. Ancora una volta ci siamo fatti trovare impreparati. In che senso? Dal punto di vista della sicurezza si parla molto adesso di protocolli. Addirittura la Procura di Pescara ha aperto un fascicolo come omicidio colposo per questo ritardo anche nell'uso del defibrillatore. In linea generale i controlli preventivi dello sport italiano sono all'avanguardia. Per quanto concerne il fatto specifico che ha così tragicamente coinvolto Pier Mario Morosini la magistratura ci dirà come è andata. Purtroppo Pier Mario praticamente non ha dietro nessuno se no qualche zio perché la sorella è disabile, il fratello è morto come i genitori, è molto sole. Quindi anche io che pur essendo contro la spettacolarizzazione del dolore tutti questi bagni di folla in suo onore e in sua memoria li accetto. Resta da stabilire proprio per lui che è troppo solo rispetto a tanti altri, anche a tanti altri morti, di ristabilire la verità. Il fatto che mi ha colpito, quando anche non si intrasse nulla nella dinamica che ha portato alla morte di Pier Mario, è quella maledetta auto dei vigili davanti all'ambulanza. Quello è proprio un tocco maledettissimo di italianità, di commedia all'italiana, per cui anche nella tragedia riusciamo sempre a metterci una briciola di farsa. Sì perché adesso dopo la tragedia si comincia a parlare di protocollo di sicurezza, tutti gli stati devono essere muniti, sempre troppo tardi. Io non criminalizzo nessuno, neanche i medici, gli infermieri che poverini così spiazzati sono stati costretti a cercare un miracolo sul corpo ansimente di Pier Mario. Ci mancherebbe, ho provato a immaginarmi nei loro panni, chissà cosa avrei combinato. Però quella roba lì, anche se ripeto, come mi auguro, non c'entri nulla, resta però una spina, una spina profonda. E' un'ultima battuta anche sull'eliti all'interno della Lega per questo recupero, per far slittare la giornata. Purtroppo siamo fatti così. Guardi, il Belgio è stato tanto tempo, più di un anno senza governo e non è scomparso dalle mappe, dalla geografia dell'Europa. Io credo che se il calcio italiano restasse senza Lega andrebbe avanti lo stesso. Sicuramente non andrebbe avanti peggio, magari meglio, comunque non peggio. Maestro, noi la ringraziamo per la sua consueta disponibilità, le auguriamo buonanotte e ci risentiremo magari in futuro. Un abbraccio. Grazie a voi. Grazie, buonanotte a voi. Buonanotte. E salutiamo il maestro Roberto Beccantini, linea Temateo.